ai pressi ci sia anche Varvas che come dicevamo è un temibile tiratore va Maradona, palla che colpisce lo spigolo tra traversa e palo e vedete come si dispera e non ci sta a perdere Maradona parte il traversone, colpo di testa di Renato, Varvas, Maradona splendido Maradona, poi rimpallo, ancora Maradona, gol grandissimo, grandissimo, bellissima l'azione anche di Canigia iniziale che ha saltato in velocità due avversari ma poi Maradona ha voluto a tutti i costi fare il gol ha avuto due rimpalli sfavorevoli però ha continuato insistendo per cercare palla sullo stop fa il tunnel all'avversario, cosa fantastica sul rimpallo vedete come si piega e calcia di esterno a rientrare il portiere guarda solo il pezzo bellissimo è questo, questo leggerissimo stop con tunnel all'avversario, incredibile